Allora, allora raga, mi sono accorto che ho detto che ho un po' esagerato nello scorso video e ovviamente chiedo umilmente perdono al cardinale perché si, perché si, chiedo umilmente perdono al cardinale per piacere e per lo più perché perché c'è lui che è un miliardario che è al Milan che eccetera eccetera, io sono qua a casa, sono un alunno a parlare di lui, quindi raga, allora volevo solamente dire che lui si dice che si interessa nel club, io vorrei un presidente che si interessasse nel club, non solamente nella finanza, finanziario, bilancio, stiamo andando bene nei bilanci, non abbiamo debiti, vogliamo lo stadio, dobbiamo avere lo stadio, 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 marchè, prodotti, fan che devono avere un moderno, lucico, prima, dopo di questo c'è però il club, il bene del club, ora non, io, io sempre parlo con massimo rispetto perché non sono nessuno per parlare, per chiedere solamente questo, cioè potremmo di fare un, cioè non potremmo andare tutti i tifosi per capire la cosa che vogliamo, oppure un sessione, spero, spero, spero che smettisca tutto Maldini, oppure che dicesse va bene, usa quei 40, 50, 70, oppure 25 milioni che ce l'hai però, perché ha firmato il rinnovo con fiducia, con una fiducia che poi non le è stata data, perché, cioè, con tutto questo rispetto, cardinale, non so fare neanche chi era il Milan, tu non puoi esoterare una figura così importante del Milan, ovviamente parlo pure di Massara, perché Massara è un grandissimo uomo, grandissimo, grandissimo lavoro insieme a Maldini, un ruolo importantissimo, però, cioè, pure Maldini è una, è una figura del Milan, quindi io, spero che, precisamente, che, cioè, che, perché ora la prima notizia che esce nel Milan dopo questa notizia è lo stadio, lo stadio, basta, basta, basta stadio, basta pensare solo a quelle cose lì, noi vogliamo le cose, cioè, capito? Poi, potremmo, cioè, con la cosa di mancate l'altro un po', cioè, perché, parliamoci chiaro, quando sono venute delle persone, facevamo un cagare, poi, cioè, dire, dire Maldini ti chiama e dire Mankata ti chiama, un'altra cosa, però sto leggendo, dopo l'ultimissima vicenda in casa a Milan, con le dire di Maldini e Massara, qualcuna, una persona potrebbe entrare nella dirigenza, secondo quanto riportava da Corriere a Sport, dopo, potrebbe tornare con noi in calico in particolare, dopo l'addio di Maldini e Massara, dopo l'addio del calcio, giocato di Zoltan. Ibrahimovic, è sempre il dirigenza hobby, bello, però Cardinaliano gli darebbe le cose che vuole, perché, con tutto il rispetto, però, cioè, non si può fare così. Grazie, raga, ci vediamo alla prossima, e non frenziendetemi, per favore, cioè, fate arrivare pure questo video a Scalonia, ma, cioè, lì, cioè, con, senza, non si può far arrivare, però, Maldini, tipo, condividetelo, fate, 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 poi, forse arriverà qualcuno che conosce l'amico dell'amico del cugino, del cugino di Maldini, di Massara, che, per la mano, vi, vi voglio parlare, grazie a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, e, e, come dire, beh, buono su, ma, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.